no vabbè ma no è bellissimo è bellissimo cioè ma sembra le cose delle principesse veramente per festeggiare i miei mille iscritti mamma mia è tutto rosa guarda che bello e vabbè mamma mia fammi content che bella no vabbè io sono allibato veramente no vabbè ma sembra la stanza di Maria Antonietta no vabbè è bellissima vabbè questa armadio sembra quello di no con le rose che belle questo armadio sembra l'armadio sembra l'armadio della della bella e la bestia la presa è qua dietro una no vabbè che bella con ste top qui no vabbè ma mi senti un po' io voglio vivere qua dentro basta io voglio vivere qua di no questo è l'angolo proprio del tè dove tutti i siti va a prendere il tè si sembra un fin di cenerentola no che bello ragazzi a letto è comodo è fatto è fatto in pelle docca a letto mamma mia no io voglio questo armadio cioè adesso si mette questo armadio e si mette a parlà come armoire no che belle le rose madonna io adesso me le porto a casa ste rose io me le porto a casa tutte con le rose anche qui tutte rose guardate che belle no il telecom cioè il televisore c'ha la i brillantini sul tele c'ha i brillantini qua sul televisore no no mamma no è bellissimo qua si chiude qua c'è scritto veri di iva proprio perché l'hanno fatta addobbata apposta per me no vabbè e qui tutto rose mamma che bella anche qui le rose qui qui sul portacolo no vabbè ma questa è la stanza dei rubri eh cioè la voglio la stanza così a casa mia piena di rose no vabbè qua dobbiamo stare attenti a prendere le le cragnate perché siamo tipo in un coso spiccolino qua si mette accendate la televisione no vabbè io che bella che bella che bella che stupendo ci sono gli angeli nemmeno non è vero adesso non è se la cazzalle se oggi è questo è il bang no no madonna pieno questo è il bang giusto un gesto arda anche qui ciao guardate qua c'è la mappa il mappone, quella nappa con le rose che cosa me la porto a casa qua c'è un arazzo questo è il bagno questo è il bagno si a narnia entri questo è il bagno mamma mia è bellissimo sto bagno no raga abbandonatemi qui che bello mamma mia queste tende queste cose di qua cosa c'è fammi andare a vedere di qua mamma mia che bello che bello orologio ma no no cosa c'è aspetta è stato in chi è no veramente è spettacolare è spettacolare c'è sembra il mare che bello che bello che bello che bello quello che azzurro della sardegna mamma mia vera ma sembra mare cioè sembra mare guarda lì cioè sembra veramente pulitissima che bello azzurro della sardegna che bello la sardegna piazza di Desenzano eccola qui qui c'è praticamente il sono le due del pomeriggio ma lì ci abiterà qualcuno la sardegna ma si ma no cosa fa il video qua ma sono brutti a quei quadri che bello dove vai comunque c'è molta meno c'è molta meno gente rispetto a meglio no no io non mi sto lamentando anzi guarda mi è ovviamente dispiaciuto che ha chiuso quel il barettino lì della russa c'è veramente bella roba è una bella giornata di sole eccola qui questa è un'altra via qua che bella madonna sembra sembra coi subborghi surreali no anche a me a me piace la chiesa dedicata a santa maria maddalena poi faranno anche una statua dedicata a me è vero io voglio la statua ad oro che bella no sto riprendendo il paesaggio qui potete vedere i cigni cosa sono dei cigni che vado giù di qua guarda che belle guarda come si chiama un cigno così come i gatti guardate che belli io sto tentando di parlare ecco le anatre no ma senti il cappello fu freddo e lì ci sono i cigni cos'è questo? che bello il cigno che belli i cigni e lì c'è il faro bellissimo il faro siamo contro luce spero che il telefono non mi cada nel che non mi cada nel cosa ecco ecco qua sta arrivando il cigno ciao 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 come ti chiami? come si chiama? perché non risponde? come ti fai la foto col cigno può essere pericoloso fatti un selfie col cigno portiamolo a casa sta grattando portiamo a casa il cigno dai sta tentando di fare la foto col cigno il selfie col cigno ma il cigno lo caga sta grattando lo sta anche chiamando rendiamoci conto eh micio senti non parlo il cignese io ecco eh no eh selfie col effetto cosa ho da dire? cosa ho da dirti selfie col effetto lì? ah l'hai fatto incazzare hai fatto incazzare il cigno ah che bella bimbo ecco qui potete vedere un babbano che tenta di farsi un selfie col cigno ma adesso mi picca ma adesso si dà una beccata sulla pelata e vedi no si dà una beccata ok ok dai salutami e fan ciao qua siamo al porto di Rimini questo è Rimini ciao Desenzano siamo al faro e qua c'è il tramonto che bello che bello c'è stancane e qua è praticamente il traghetto per andare a Desenza e a Siermione ce la faccio coi nomi ce la faccio quindi io possiego una barca ecco questa è la mia barca questa questa barca no al massimo io posso possedere quella lì di carta no di barca no e basta cioè questa qua questa qua per me è troppo è troppo anche per i miei canoni miseri madonnina che ci protegge si ma sono tutti uguali cioè non è che lì in fondo praticamente c'è un tipo con l'akitainu non so se avete presente il cane quello giapponese no e praticamente si è fermata fa a fotare il cane ma che cazzo fai a fotare il cane io ne manco il tuo se avevo io di vabbè dai copiettina roba pietuosamente vostro il piccolo rom siamo appena svegliati questo questo materasso è comodissimo si ma devi dormire su una nuvola veramente anche il cuscino è veramente fuori dal mondo fate vedere la testata al letto con le rose questo tutto 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 è la tavola lunga no tutto sto ben di dio no veramente il bagno non è qui scusate vabbè sta posizione sembra un maiale vabbè il bagno non è qui è fuori praticamente qua non c'è sta nessuno qua non c'è sta nessuno quindi è tutto nostro il bagno è bellerrimo anche lì poi soprattutto il cosa ho fatto l'uncinetto con gli orsacchiotti che io adesso lo prendo e me lo porto a casa sappiatelo e probabilmente qua non c'è sta mi sa che non c'è sta nessuno però abbiamo sentito fuori dalle voci da una tizia che fa amore amore ah c'è sta fossa che sono adesso non ho capito io sono dei fantasmi no perché questo è abbastanza inquietante la notte c'è sta fossa oppure c'è la gente che sta fossa è solo di prima mattina non c'è voglia di fare niente è appena alzato c'è veramente questa questa faccia orrenda mamma mia cioè veramente guardate il mio bulbo oculare mamma qui c'è c'è l'orecchio che vabbè comunque tutto lì perché siamo a febbraio ma solitamente verso giugno luglio comincia a venire una fiumana di di tedeschi no era praticamente c'è quello lì vicino che stava guardando la partita della Germania giocava la Germania unica cosa che non me ne frego un cazzo tra l'altro e c'è la Germania e mi faceva ah suon suon ho detto spero che vi incalita spero che vi incalgi a Germania sennò qua danno fuoco tutto il video cioè veramente in maniera comoda così sembro sembro il rumore in pigiomino vi piace non ho mai registrato in pigiama e soprattutto ma è che è luce del mattino comunque ma è che c'è un bel sole ma è che c'è un bel sole ma è che c'è un bel sole perché veramente dopo tre weekend in intero te di pioggia basta veramente adesso spero che dipende la colazione che veramente una colazione così l'avevo vista a a salso cioè all'hotel regina di salso andate cioè spero se si può dire se fa pubblicità vabbè comunque praticamente c'era sta cosa che era manco Lady Diana c'aveva sta sta cosa sta sta che sta colazione c'era di tutto c'era tipo tutti i tipi di torte che volete e c'erano 56 tipi di succhi di frutta i caffetti li facevano in tutte le maniere possibili brioche da quella vuota a quella con il gelato addirittura e poi se volevate la parte lì americana c'è anche le uova il prosciutto e poi vabbè a me se fa mania il prosciutto con le uova al becco una mattina a notte che era veramente questa è la collazione c'è il salato se volete c'è anche un compleanno tra l'altro prima che fa 26 anni trovate ho messo il gatto sono marea di orologi che bella di orologia di orologia